ciao 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 eccomi mi chiamo angelo io sono maria luisa francesco io sono elena ho 26 anni ho 30 anni 27 anni 21 una fotografa freelance faccio il musicista spuntman penso che si comincia a diventare vecchi dai 55 60 anni di 65 70 60 dopo 55 60 fammi vedere come si muove un vecchio la guida è se il volante qui lui si mette avanti ma secondo te che cosa fanno nel tempo libero l'anziano al cantiere al circolo delle bocce come manda un sms e rispetto all'aspetto fisico alla persona non ci pensi più all'importanza dell'aspetto fisico ma che tipo di viaggio ti immagini che possano fare le crociere sicuramente abbiamo una piccola sorpresa c'è una persona che ci piacerebbe farti conoscere ciao sono giacomo piacere emanuele benvenuti sono valeri piacere io ho 65 anni 60 56 56 56 60 55 e che cosa fai nella vita faccio la modella sono un'ex danzatrice e coreografa insegno ancora danza e faccio pilates insegno arti marziali sviluppo software specialmente per il settore della realtà aumentata da questo momento avete due minuti di tempo per insegnare all'altra persona qualcosa che sapete fare molto bene giù con la schiena gira il braccio sulla testa due tre come si cammina in passarella lascia le braccia lascia le braccia lascia le braccia oh angelo tutto posto no no aspetta un attimo aspetta tranquillo tranquillo piano ispiro la tua idea è sempre la stessa a che età si diventa vecchi direi che bè chissà quando sei lì non lo so 99 a quanto pare non c'è età quanti anni aspettano 60 allora fino ai 90 tondi tondi tu ti senti vecchia io credo che la vecchiaia sia determinata solo ed esclusivamente dal fatto che uno molli mi sento dei veri miei anni i miei 56 anni però come spirito mi sento di fare tantissime cose l'importante è avere sempre più progetti che ricordi sono migliorato acquisito più esperienza ma ho una conoscenza migliore delle cose un po di rughe però non cambia l'energia fisica non cambia la testa io ora e fanno un viaggio nel nord europa in moto assolutamente sì un libro di pilates che ho scritto dei corsi da fare nuovi dei master o delle gare di ballo dove ballo io può ancora amare a quell'età di assolutamente sì ci diventiamo vogliamo viviamo troppo bello posso fotografarvi è stato un piacere bel selfie per il mio instagram ricordi Amén.